Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao Vitamina, oggi catalogo di Ivoro Rocher, album 2, questo inizia oggi 24 gennaio e termina 16 febbraio, come vedete la copertina c'è la linea Family Bio che è veramente uscita adesso tutta la linea e possiamo capire bene tutto. Innanzitutto qui il codice QR per vedere comunque il catalogo in pdf, oppure direttamente andate sul sito, scopri album, c'è tutto, lo potete scaricare sia in pdf che in normale, ci lo potete guardare in normale. Allora vi faccio vedere tutto, innanzitutto nuovo prodotto ma soprattutto proprio la linea Family Bio che si può utilizzare dai 3 anni in su, come già sappiamo noi questa linea un po' la conosciamo perché è già uscito uno dei prodotti come il balsamo del frutteto, quindi già sappiamo di cosa si tratta eccetera. Però oggi vi parlo del prodotto Star, Cica Crema Riparatrice, che questa in teoria è una crema per viso corpo e mani da 50 ml, in teoria è formulata con un concentrato di principi attivi di mela bio, nutre intensamente, lenisce le zone più secche e fragilizzate. Agevola la riparazione immediata della funzione di barriera cutanea e rinforza dopo 28 giorni di utilizzo, costo 12,95 ml, va bene per viso corpo e mani, per pelle secche irritate, lenisce le pelli irritate, rinforza la barriera cutanea e da una texture ricca effetto bandaggio, in teoria se ci sono rizzazioni potete aumentare lo strato del prodotto. Dopo aver deterso comunque, come utilizzarlo insomma, dopo aver detersi e asciugato la pelle, applicare la Cica Crema localmente da volta al giorno, l'utilizzare in funzione delle necessità e delle zone molto secche delle labbra, viso e corpo. Per un'efficacia ottimale, effetto bandaggio, applicare la nostra labbra molto più spesso. Vabbè, costo ve l'ho detto, qui abbiamo il sommario dove ci sono delle novità e anche delle offerte. Innanzitutto vi faccio vedere, vi presento i tre prodotti nuovi, che sono il doccia shampoo delicato, 12,95 ml, fase da doccia che da shampoo, si può utilizzare appunto dai bambini dai 3 anni in su, in 20 sono di origine naturale, fino al 97-98% circa alcuni. E in teoria questo, non so se vi ricordate quello rosa, perché non è un catalogo per farvi notare la differenza, perché c'era quello rosa, che per peli delicate, che hanno tolto, quindi alcuni che hanno ordinato quelli, gli hanno mandato questi. Comunque, crema idratante leggera 24 ore, questo è per il viso, 24 ore di idratazione, beauty, mamma e bimbi, 17,95 ml. Latte con forte nutriente corpo e mani, per il corpo e mani, 14,95 ml. Super offerta. Allora, vi propongono con 34,95 ml, tutti e tre prodotti, inclusa in omaggio una tazza, bellissima. Io questa tazza ho questo tappo di zucchero, che potete utilizzare come coperchio oppure come reggi tazza, insomma, appoggi tazza quando è calda. Cosa contiene il set? Tutti e tre prodotti, quindi anziché acquistarli comunque singolarmente, loro ve li propongono a 34,95 ml. Crema riparatrice viso corpo e mani, 50 ml, doccia shampoo delicata, crema leggera, più la tazza. Stupendo, poi se volete anche aggiungere l'altro prodotto, il prossimo del frutteto, potete aggiungere. Poi abbiamo in regalo il Try Me Kit. Cosa è? In teoria è un kit con 5 prodotti in formato speciale, più un beauty, che è bellissimo. Come averlo in teoria? Acquistando 40 euro di prodotti viso da pagina 8 a 29, vi danno la trussa e 5 prodotti in formato speciale. Cosa vi danno? Sieru viso anti-age global, gommaggio viso, profumo in versione molto mini e della surlaranda. Un profumo comunque, questo è un profumo che può piacere soggettivamente, cioè a me piace, magari a chi piacciono gli orientali può piacere, a chi no, non può piacere. Poi abbiamo un'anteprima dell'album 4, questo è un nuovo shampoo, questo è lo shampoo dolcezza che uscirà in album 4. Allora vado in un formato da 50 ml, vi dico subito giù cosa fa. Shampoo delicadezza, hanno formulato la, cioè hanno riformulato meglio la formula e niente. E poi un gommaggio da 50 ml, che è quello che già conosciamo tutti, più il l'atrusso. Prodotti viso. Poi abbiamo, allora, in teoria potete acquistare dei prodotti viso. L'antietà se non erro, però guardiamo perché non mi ricordo. Vabbè abbiamo i sieri a 34,95, la crema, la crema questa giornata e notte 24,95. Crema anche questa giornata e notte della rich cream 22,95, la linea elixir botanic. Questo mi dicono che è buono, raga, io ancora non l'ho provato. Ah sì, infatti abbiamo sia il viso specifico che quello antietà. Quindi abbiamo le creme a 14,95, quelli della linea sensitive, BB cream. E anche sui detergenti, ottimo, perché magari con 40 euro le persone possono sia comprare qualche crema, aggiungere anche qualche detergente viso. Insomma, effettivamente abbiamo la linea pur mint, pur camille. Poi abbiamo due prodotti nuovi, cioè più che nuovi hanno cambiato pack e riformulato la formula. Abbiamo mascara intense, metamorphose, volume, lunghezza e curvatura, waterproof. Hanno cambiato formula e pack, quindi waterproof, nero intenso, volume estremo, ozzi, incurvate, allungate, prova di sbagliatura, 19,99, 95. Comunque pack è carino, sapete che è sempre inclusa con un fiore d'aliso, quindi per prendersi cura comunque degli occhi delicati. Poi invece abbiamo, allora, se vi acquistate il mascara, 19,95, a 8,98 potete prendere l'eyeliner che hanno riformulato di nuovo. Quindi nuova formula, più pulita, hanno tolto tipo due prodotti che davano fastidio, insomma, alla composizione del prodotto, in genere, diciamo, di inci, ecco. Quindi la nuova formula, più pulita, arricchita con un po' di fiore d'aliso e nero profondo, che è sempre dato dal carbone vegetale. Quindi, 19,95 mascara, acquistando questo, potete prendere l'eyeliner a 8,95, se no, la potete pagare a 14,95. Niente, questo ha tenuto 12 ore, ingredienti, la prete, 92% di donne, dichiara che non sbava più, non cola, ha una buona tenuta ed è facile e preciso l'eyeliner. Poi abbiamo gli altri eyeliner, sempre acquistando il mascara, potete scegliere sempre l'eyeliner tipo questo, liquido, o matte, no, liquido, basta, sempre 8,95. Poi abbiamo una super bomba di contro i guarda questi, Life Proof, raga. Provateli, prendeteli, 8,95, è un prezzo, secondo me, strabiliante. Cioè, provateli. Questi sono degli ombretti allungati, una volta asciutti, non si tolgono. Poi abbiamo questo, raga, è veramente stupendo, il matitone grossi, nutriente, 11,95, incluso, il regalo vi danno un, è un de parfum, che io, per dire, sceglierei molto un formato da 10 ml, perché c'è sì il formato 10 ml, della linea Moon Rouge, no, Moon Evidence e Moon Rouge, giusto, Bloom in Love, mentre da 7,5 il Cournout, e Surlerand, quello in formato spray. Comunque, con 11,95, questo vi viene gratis, raga. Cioè, pensate un po' che questo costa tipo 9 euro, questo 10, cioè, raga, un ascolto super. Cioè, sì, se vi piacciono i matitoni grossi, prendeteli. A me non piacciono. Poi abbiamo i profumi. Alcuni profumi da 100 ml, 30, 9,95, poi maggiori sappiamo. Poi abbiamo alcuni cofanetti, come il Plain Solaire, Moon Rouge, e il Sable Sfau, che è una bella profumazione, scusate la mia pronuncia. Poi abbiamo questi, 24,95, che sono, diciamo, Leo de Cologne. Poi abbiamo trattamenti, sempre ne acquisti un trattamento e un secondo lo paghi al 50%, cioè, stupendo. Tipo, ha acquistato una maschera a 9,95, la seconda l'ha pagata a 4,98, quindi con 15 euro vi portate due maschere, poi ci sono anche altre cose. I fieri. Non è sui sciampi, però peccato. Poi abbiamo un set carinissimo con 9,95, due fragranze disponibili, cocco e vaniglia. Possiamo prendere igienizzante mani, crema mani e emoniente labbra. Poi abbiamo altri prodotti complementari, i gommati a 9,95, gli olio corpo e capelli, 12,95, argan e petani di rosa, e cocco. Poi abbiamo come super prezzo il latte nutriente da 200,99, e il balsamo nutriente intenso, pelli molto secchi, 12,95. E poi abbiamo tre di questi, di Euro Nonna, 9,95. Allora, io ho provato solamente purezza, la menta piperita bio. è proprio una menta, proprio viola, raga. Invece freschezza, non l'ho mai provato, e ne chiamiamo milla. Comunque, molto vantaggioso come prezzo. Poi abbiamo altri prodotti, complementari, vabbè, qui facendo il codice QR, ci sono diciamo più offerte. E poi come crema e mani, ne abbiamo due, 9,95. Idratanti. Ah sì, però con questo codice, prendendoli. E invece qui abbiamo il balsamo, mani, antifreddo, 2,12,95. Ripara, morbidisce, ridono a comfort. Tutti e due, 12,95. Ne vale la pena. E niente, raga, questo è tutto il catalogo. Speriamo che vi piacciono alcune offerte. E al prossimo video. Ciao!